L'inno di Mameli ha aperto l'inaugurazione dell'anno giudiziario oggi nell'aulamagna del Palazzo di Giustizia con la relazione della Presidente della Corte d'Appello, Fabrizia Franca Bandera. Oggi ci sono più risorse, anche grazie al PNRR, ha detto. Entro il 2026 va battuto il 90% dell'arretrato civile, va ridotta la durata media dei procedimenti del 55% nel civile, del 25% nel penale, ampio focus sulle riforme. Nel settore penale sono aumentate le archiviazioni, in misura minore le pronunce, sono aumentate le dichiarazioni di difetto della condizione di procedibilità, essendo stato fortemente ampliato il catalogo dei reati, per i quali è prevista la querela. Sono stati definiti e quindi sottratti all'arretrato i numerosi processi sospesi a tempo indeterminato per irreperibilità degli imputati, per i quali è oggi previsto il recupero. In caso di esito positivo delle ricerche, è invece ancora scarsa l'incidenza delle condette riparatorie e dei casi di messa alla prova. I giudici del distretto, sia in primo grado che in appello, hanno cominciato sia pure timidamente ad applicare le prime pene sostitutive delle pene detentive di breve durata. Buone notizie sul personale amministrativo che ha aumentato e la scopertura in bari uffici è stata dimezzata. Resta problematica la situazione dei tribunali infraprovinciali, anche se l'accorpamento ha rinviato. Resta alta la scopertura di dipendenti a tempo indeterminato in corte d'appello. La copertura della pianta organica dei magistrati resta una nota dolente. Dati allarmanti per i reati di genere, tra cui i femminicidi, nel 2023 in Abruzzo, ce ne sono stati cinque, il tasso più alto in Italia. L'adeguamento del Codice Rosso ha portato anche più lavoro e necessità. Anche gli uffici minorili segnalano con preoccupazione l'aumento dei reati compiuti da minori. E c'è anche la problematica dei minori stranieri non accompagnati, in Abruzzo a ben 839. Nel settore civile il lavoro è efficace per i giudici di pace. L'arretrato civile ultratriennale, vera nota dolente del sistema, è diminuito rispetto al 2019 in linea con gli obiettivi del PNRR. Preoccupante però l'arretrato di Teramo. In corte d'appello, pur a fronte di un lieve aumento dei procedimenti di nuova iscrizione nelle sezioni civile e lavoro, si registra ugualmente un lieve aumento nelle definizioni, quasi 3.000 sentenze, e una più consistente diminuzione della pendenza complessiva delle due sezioni. Sul fronte degli uffici e degli spazi, soprattutto permangono criticità dei lavori, al Palazzo di Giustizia dell'Aquila, più volte denunciate, la distribuzione degli spazi fra i quattro uffici ospitati nell'immobile, corte d'appello, procura generale, tribunale e procura della Repubblica, non adeguate alle reali esigenze. Per ora resta del tutto ignorato il tema dell'eventuale sistemazione del personale in servizio negli accorpanti tribunali di Avezzana e Sulmona, tuttora il regime precario di ennesima proroga.